Un'altra cosa strana, io conosco quella donna, dove sta all'aeroporto? Vai a parlarle se vuoi, io ti aspetto. Ok. Ciao, speravo di non disturbarti. Sono John Woodson, Giulia mi ha portato qui. Marjorie Carter. Sì, è sicuramente uno dei posti più belli che abbia mai visto in vita mia. Se alloggi anche tu alla tenuta, potremmo vederci più tardi, così parliamo della profezia. Un'altra volta. Dai, perché no? Tu saprai un sacco di cose. Non è così? Potresti dirmi che succede qui? Io vorrei sapere tutto quanto. Ho un sacco di lavoro da fare, ed è già tardi. È stato un piacere. Ma che ho fatto? Non è andata molto bene. Non è andata molto bene, è un eufemismo. Cos'ho detto che non va? Non è quello che hai detto, ma ciò che hai fatto. È come se tu volessi controllarla con la tua energia. Si è sentita dominata. No, andiamo. Io non ho fatto proprio niente. Sei sicuro? Non cercavi di convincerla a fare qualcosa? O di manipolarla? Non ci è abituata, lei vive qui. È assurdo, da dove salta fuori questa storia? Lo vedevo. Hai presente le aureole che i pittori un tempo dipingevano sulla testa dei santi? Pensi che se le inventassero, che le vedessero davvero. È l'energia, John. Rivela cosa facciamo agli altri. Non eri consapevole, ma le stavi rubando energia. Io lo vedevo. E anche lei.